Ma dove ne sono sti mafiosi? Chi sono? Sempre a dire mafia qua, mafia là. Ma che cos'è questa mafia? Dov'è? Devi sapere che una faccia è come un paesaggio. Una faccia può essere un cerdino, oppure un bosco, oppure una terra desolata dove non ci cresce niente. Ci siamo stancati di aspettare. Qua bisogna fare qualche cosa. Ma lo sapete quante volte prendiamo a Cinesi? Qualche decina. E voi pensate che con qualche decina di voti ci possiamo permettere di fare la voce grossa? Diventeranno anche meno se stiamo zitti. Stefano, quella poesia di Majakoski, la tua preferita? Non rinchiuderti partito nelle tue stanze. Resta amico dei ragazzi di strada. Il cazzini se non si muove foglia, che tontero non vuoi! Parola di Tano, sei tu, tu grande capo di mafiapoli! Ocatenismo? Qual era il comandamento di Tano insagliato? Cono dai padre. Impastato! Quasso, lo sai chi ci abita qua? Ah, un Zutano ci abita qua! Parla piano! Cento passi ci sono da casa nostra, cento passi! Vivi nella stessa strada, prendi il caffè nello stesso bar. Alla fine ti sembrano come te! Salutiamo Zutano! Ma tu non lo capisci? Che se parli così, quelli ti ammazzano. Ma se quelli mi ammazzano, tu che cosa fai? Oggi giorno basta un registratore e un antenino per fare il cazzarato. Ce ne saranno già mille in tutta Italia. A me basta che ci sentono accini, sì. Sì, quando c'è via! Sì, quando c'è vento, quando c'è sole, quando c'è pioggia, quando non mi danno il permesso per fare un comizio, quando mi sequestrano il materiale. L'aria non ce la possono sequestrare. There is a house in New Orleans The cold, rising sun And it's been the ruin of many of our world And God, I know I want you